Non mi si può chiedere un passo indietro con una data precisa perché il Presidente naturalmente non è uno yogurt che ha una scadenza programmata. Una cosa è certa nel centro-destra retino se va avanti di questo passo il Malox rischia di diventare il farmaco più richiesto. La netta presa di posizione del Presidente della provincia Alessandro Polcri mette all'angolo le strategie che in Casa Lega da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra stavano cercando di imbastire. Intanto le deleghe non sono state assegnate e prima che queste vengano distribuite dovrà essere necessario un chiarimento politico tra le parti in causa. La legge non obbliga poi a creare il Presidente un organo monocratico e la sua funzione esecutiva lo obbliga a dare risposte immediate. Le deleghe sono necessarie per alleggerire certi compiti e meglio responsabilizzare quella parte politica che intende appoggiare il Presidente. È vero che Polcri vende eletto con una maggioranza diversa, poi il graduale ritorno della casa madre e la ricomposizione di un quadro è sempre rimasto precario e che non ha pacificato evidentemente la situazione. Nella maggioranza Simon Pietro Palazzo è il pontiere di turno, mentre Francesco Lucacci ha fatto capire a chiare note che Polcri, entro la prossima primavera, se ne dovrà andare per poter tornare a rivotare il Presidente. In tempi utili le alternative non mancano, ma poiché al momento è rimovibile e inamovibile. La metafora dello yogurt è stata forte e al tempo stesso piccata. Deve passare il Natale per capire se il Presidente deciderà che non è più il caso di proseguire. Intanto la pratica pontebureano dovrà essere portata avanti alla pari di quella della Tiberina Trebis. Sul ponte di Cesa, dopo l'esternazione del sindaco Agnelli, anche il Democrat Brandi ha anticipato che porterà il tema in consiglio. Da parte sua Polcri ha ribadito che nel bilancio previsionale ci sono 330 mila euro per questa infrastruttura.